L'arianesimo, un'eresia che ha diviso la Chiesa. L'arianesimo è una dottrina trinitaria elaborata dal presbitero, monaco e teologo Ario 256-336, condannata come eretica al primo concilio di Nicea 325. Tale dottrina sostiene che il Figlio di Dio sia un essere che partecipa della natura di Dio Padre, ma in modo inferiore e derivato, e che pertanto c'è stato un tempo in cui il Verbo ancora non esisteva e che egli sia stato creato da Dio, all'inizio del tempo. Le origini dell'arianesimo Le origini dell'arianesimo risalgono alla fine del III secolo, quando Ario, un prete della Chiesa di Alessandria, iniziò a diffondere le sue idee sulla natura di Cristo. Ario sosteneva che il Figlio di Dio non era coeterno e consustanziale al Padre, ma era un essere creato dal Padre all'inizio del tempo. Ario basava la sua dottrina su un'interpretazione letterale di alcuni passi della Bibbia, come ad esempio Giovanni 1-1-3, che afferma che in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Ario interpretava questi passi come un'indicazione che il Verbo era una creatura, non Dio stesso. La diffusione dell'arianesimo Le idee di Ario si diffusero rapidamente in tutto l'impero romano, soprattutto in Oriente. L'arianesimo trovò un terreno fertile tra le popolazioni pagane, che erano ancora incerte sulla natura del cristianesimo. L'arianesimo fu anche sostenuto da alcuni imperatori romani, come Costanzo II 337 e il 361, che erano favorevoli a una religione monoteista più semplice. La condanna dell'arianesimo La diffusione dell'arianesimo provocò una grave crisi nella Chiesa. Nel 325, l'imperatore Costantino I convocò il primo concilio di Nicea per Risone. Il concilio condannò l'arianesimo e proclamò la dottrina della consustanzialità del figlio e del padre. La condanna dell'arianesimo fu un evento importante nella storia della Chiesa, perché affermò la centralità della Trinità nella fede cristiana. La sopravvivenza dell'arianesimo Nonostante la condanna dell'arianesimo, questa dottrina continuò a sopravvivere per molti secoli. L'arianesimo fu sostenuto da alcune popolazioni germaniche, come i Goti, i Vandali e i Longobardi. L'arianesimo fu infine sconfitto nel VI secolo, ma lasciò un'eredità importante nella storia del cristianesimo. L'arianesimo e la cultura occidentale L'arianesimo ha avuto un impatto significativo sulla cultura occidentale. L'arianesimo ha contribuito a diffondere l'idea del monoteismo cristiano, che è diventata una delle basi della cultura occidentale. L'arianesimo ha anche contribuito a far crescere il conflitto tra la Chiesa e lo Stato, p. che alcuni imperatori romani hanno sostenuto l'arianesimo per motivi politici. L'arianesimo e la Chiesa Cattolica La Chiesa Cattolica condanna l'arianesimo come una dottrina eretica. La Chiesa Cattolica sostiene che il figlio è coeterno e consustanziale al padre. Questa dottrina è stata definita dal concilio di Nicea nel 325. Conclusione L'arianesimo è stata una delle principali eresie del cristianesimo. Questa dottrina ha avuto un impatto significativo sulla storia della Chiesa e della cultura occidentale.